L'agente marittimo di linea ha il compito di rappresentare l'armatore presso i porti di sbarco che vengono appunto toccati dalle navi dell'armatore che si rappresenta e ha il compito, non sempre ma quasi sempre, di sviluppare all'interno di una determinata area geografica anche un'azione commerciale e quindi quella di gestire il carico in import che arriva quindi sbarcato da queste navi e di far trovare del carico in export presso il porto di imbarco quando appunto arriveranno le navi con una sequenza più o meno ripetuta e continua. L'agente marittimo per fare in modo di trovare questo carico, di metterlo poi appunto a disposizione della nave quando arriverà in porto è in contatto con varie realtà che possono essere sia le ditte direttamente esportatrici oppure i vari spedizionieri. Lo spedizioniere è appunto quell'operatore che è direttamente in contatto con le ditte esportatrici e quindi si assumono il compito di trasportare la merce da un punto A a un punto B e appunto su questa catena del trasporto che avviene per trasportare la merce da un punto A a un punto B ci sono vari operatori che operano per fare in modo che questo avvenga nel miglior modo possibile e appunto tra questi vari operatori c'è l'agente marittimo che ha il compito e a volte la possibilità di poter offrire una vasta gamma di servizi. Allora se parliamo dell'agente marittimo le caratteristiche che bisogna avere per provare a fare meglio questo lavoro sono sicuramente una grossa capacità di sapersi relazionare con le persone perché comunque si ha a che fare con tantissime persone persone più o meno preparate, persone con un carattere più o meno affabile quindi persone anche scontrose, persone anche molto simpatiche quindi alle volte si riescono anche poi a creare dei rapporti magari anche di amicizia con tanti clienti con tanti clienti invece il rapporto è proprio professionale e si limita a quello Tra le caratteristiche che bisogna avere per fare questo mestiere a livello di preparazione è sicuramente un livello decente anche un pochino di più di conoscenza della lingua inglese perché comunque si ha a che fare ci si trova sempre a confrontare con persone che vivono in altre parti del mondo quindi l'inglese è sicuramente fondamentale e occorre poi avere anche una predisposizione per diciamo essere determinati sulle cose nel senso se si vuole portare a casa un risultato, questo un po' in tutti i campi però soprattutto nel nostro mestiere la concorrenza è altissima quindi bisogna essere sempre molto preparati quando si ha a che fare con una qualsiasi controparte e bisogna insomma anche saper gestire al meglio le situazioni difficili che quotidianamente capitano All'interno del nostro ufficio noi ci occupiamo soprattutto di export e siamo un ufficio commerciale di customer service quindi la gran parte delle nostre giornate la passiamo al telefono parlando con i clienti o comunque via mail facendo quotazioni cercando di gestire problemi o colarci più o meno dei clienti per cercare di convincere e imbarcare con noi offrire i servizi che dà il nostro armatore e cerchiamo sempre questo di farlo al meglio nel modo più simpatico ma anche facendoci vedere sempre molto preparati perché questo è fondamentale perché comunque se io devo spedire della merce, devo affidare della merce molto importante a qualcuno voglio avere la sensazione che la mia controparte sia molto preparata e in grado di gestire eventuali problemi che la merce possa avere in tutte le fasi del trasporto Il nostro lavoro è fatto anche molto di incontri personali con le persone, con i nostri clienti perché sicuramente la nostra struttura può essere più o meno conosciuta noi speriamo sempre che lo sia, sicuramente la nostra lo è però sapere comunque anche chi hai di fronte che non è solo una mail che ti arriva o comunque una voce al telefono ha sicuramente il suo effetto Quotidianamente riceviamo tantissime telefonate, tantissime email e insomma alle volte un'altra caratteristica che sicuramente una persona che vuole intraprendere questa carriera deve avere è quella di essere molto, insomma, saper sopportare tutta questa mole di lavoro e di pressioni che arrivano dall'esterno e insomma capita alle volte che alla sera si arriva veramente molto stanchi al lavoro e quando si arriva a casa squila il telefono si dice oddio no, anche qua eppure magari è il parente, è la mamma che chiama per sapere se va tutto bene se è arrivata a casa però sì, stando tutto il giorno al telefono alle volte è simpatico ma quando si esce poi magari si è ancora con la testa un po' sul lavoro e quindi si rischia magari di non avere troppa voglia di parlare poi anche con le persone care però è una cosa che solitamente non capita ci sono tante altre cose positive grazie 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 grazie